eccoci riconoscete questa piazza è difficile no siamo a bolzano siamo vedi e io mi chiedevo una cosa sapete cosa ci fa uno studente di bolzano in azienda o il laboratorio è l'alto attesista no bubba maria ma che meraviglia queste sì che sono condizioni climatiche da persone enormi anche pieno di figa peccato che quando fai lo giù si vede poco bella saluti da bolzano austirol